Un'alga invisibile all'occhio umano ma insidiosa che è stata trovata dalle analisi effettuate dall'Arta nelle acque del tratto di mare tra Ortona e San Vito, in particolare nel tratto a 350 metri a nord del fiume Moro dove si registra una quantità elevata dell'alga potenzialmente tossica. L'Arta ripeterà giornalmente i controlli e questa mattina il commissario straordinario al comune di Ortona Braga ha emesso un'ordinanza per un divieto temporaneo di bagnazione. A San Vito, nella zona del Turchino, essendo i dati nei limiti, non si ravvisa necessità di divieto di bagnazione ovviamente la situazione è tenuta sotto controllo. Ma per conoscere meglio le caratteristiche di quest'alga abbiamo ascoltato la biologa Maria Carla De Francesco direttrice facente funzione della riserva naturale regionale Punta dell'Acquabella che si affaccia proprio sul tratto di mare interessato. La nostra ops sovata, un dinoflare gelato, un'alga unicellulare piccolissima da vedere che vive, viene dai mari tropicali ma che purtroppo da circa 25 anni si può ritrovare anche lungo le coste del Mediterraneo. Perché è qui? Perché quest'alga predilige le alte temperature, il mare calmo come in questi giorni e i substrati rocciosi come per l'acquabella e gli scogli sottomarini. Cosa succede? L'alga è lievemente tossica, può dare dei problemi per cui si invita la popolazione, i cittadini turisti a rispettare l'ordenanza di non bene abilità e di passeggiare anche velocemente lungo la pista ciclopedonale in concomitanza della spiaggia perché anche l'aereo sol può dare problemi alle vie aeree. ma nulla di grave perché basta un po' di pioggia o abbassamento delle temperature e il problema rientra. Quando si dice che potrebbe essere tossica, che tipo di problemi può dare? Irritazioni cutanee, irritazioni dell'apparato respiratorio perché ovviamente se viene respirato con l'aereo sol soprattutto nei bambini o negli anziani dà piccole irritabilità non gravi, non piacevoli per cui si chiede un attimo di pazienza e di evitare in questo momento di fare il bagno il problema sono sicura che rientrerà il più presto possibile non appena le condizioni climatiche e le temperature si abbasseranno. La zona? L'area è 350 metri a nord del fiume Moro dietro punta dell'Acquabella verso sud gli scogli che si trovano lì che non ospitano neanche sabbia o ghiaia per cui è anche scomodo fare il bagno e anche scendere da lì. Si chiede di evitare di farsi i tuffi da quel bellissimo posto purtroppo di temporeggiare per i giorni necessari per il rientro di questo problema. L'arta sicuramente ci darà i risultati il più presto possibile. Grazie a tutti.